Buonasera, buonasera a tutti, rieccoci con un appuntamento di Cosmo TV, a grande richiesta questa sera parliamo di Roll, non potevamo tra l'altro non parlare di Roll, noi di Cosmo TV che siamo qua a Torino e quindi insomma siamo cresciuti, siamo cresciute sentendo tantissimi racconti su questa figura che è diventata leggendaria, un uomo tra gli uomini come amava definirsi, però anche un uomo straordinario che è diventato appunto leggenda, considerato un iniziato, considerato sicuramente un illuminato che non soltanto si prodigliava per il bene delle altre persone, alleviando anche i malati dalle proprie pene fisiche, ma intratteneva anche amici e personaggi molto famosi da Franco Zeffirelli a Federico Fellini nel suo salotto ed è diventato un personaggio come si diceva leggendario, questa sera cercheremo di ricostruire tutta una serie di aneddoti, di punti magari ancora oscuri della sua vita con tre ospiti d'eccellenza, partiamo tra l'altro con la giornalista e scrittrice Paola Giovetti che proprio l'anno scorso ha presentato al Salone del Libro il suo ultimo libro edito da Mediterranea, adesso la nostra Barbara metterà anche in chat il link del suo libro, Gustavo Adolfo Roll, L'uomo oltre l'uomo con lettere, diarie e tessi inediti, edizioni mediterranee, buonasera Paola. Buonasera Enrica, buonasera, grazie per l'invito. Grazie per essere qua con noi, tra l'altro io l'anno scorso al Salone del Libro c'ero quindi ho avuto la fortuna di seguire la tua presentazione anche perché poi per anni, anche per lavoro, sono stata a stretto contatto con persone che avevano avuto la fortuna proprio come te di conoscere in maniera molto stretta Roll e quindi è sempre un piacere poterne parlare. Abbiamo qua con noi stasera anche Emanuele Cercollini, eccoci qua, è un artista, un ricercatore, un professore associato nella facoltà di filosofia presso l'università di Zugo, dove tra l'altro cura anche un master sulla storia dei sistemi esoterici occidentali, è un profondo conoscitore non soltanto della figura di Roll ma come vedrete dell'esoterismo, della storia delle religioni e più in generale della spiritualità e quindi ci accompagnerà anche in tutta una serie di connessioni molto interessanti tra Oriente e tra Occidente. Buonasera Emanuele. Grazie, buonasera Enrico e buonasera a tutti. E poi abbiamo Davide Baresi, professionista multidisciplinare della comunicazione e del marketing, creatore di contenuti multimediali per imprese, istituzioni, cinema e televisioni e anche un appassionato storyteller, oltre che un grande appassionato della figura di Roll. Buonasera Davide. Buonasera a tutti, grazie Enrico. Come si capisce io sono solo un appassionato, loro sono i veri esperti. Però anche tu so che insomma in un gruppo, tra l'altro Facebook, che è seguitissimo proprio sul dottor Roll. Sei un ospite fisso, ormai c'è questo trio che è seguitissimo. Ogni settimana tra l'altro ci sono nuove entrate all'interno di questo gruppo che seguono i vostri incontri, le vostre iniziative e quindi era assolutamente doveroso averti qua con noi. Ringraziamo anche Loredana che ha permesso questo incontro di questa sera, questo webinar. Noi iniziamo, vi ricordo intanto che potete già utilizzare la chat e quindi commentare. Io intanto seguirò con il doppio occhio anche i vostri commenti, ci saranno delle domande particolari, ovviamente le rivolgerò ai nostri relatori. Roll è venuto a mancare il 22 settembre del 94. Nonostante siano passati così tanti anni, l'interesse per la sua figura è non soltanto qua a Torino, ma in Italia addirittura nel mondo, invece di scemare è continuata a crescere. E come si diceva tra l'altro prima che iniziasse proprio questa diretta, l'interesse e l'attrazione anche magnetica verso la figura di Roll continua a crescere ogni giorno e le persone continuano ad appassionarsi alla sua vita e ai suoi prodigi. Io inizio da te, Paola. Ci puoi accompagnare, anche se non basterebbe certo un webinar di un'ora, ma neanche una conferenza di qualche ora, ma ci vorrebbero libri e giornate, così come ci sono stati film e documentari. Ci vuoi accompagnare a fare la conoscenza di questo personaggio davvero prodigioso? Chi era davvero Gustavo Adolfo Roll? Credo che Gustavo Roll nasconda ancora parecchi misteri. Per me è un iniziato, un iniziato come ce ne sono stati nel passato, la nostra epoca ha avuto lui. Come l'ho conosciuto io, l'ho conosciuto negli anni, è frequentato negli anni Ottanta, un bellissimo signore, allora aveva già un'ottantina d'anni, perché lui era nato nel 1903, quindi quando l'ho conosciuto io erano quasi Ottanta e poi superati gli Ottanta nel tempo. Un bellissimo signore, alto, elegante, galante, molto galante con le signore, gentilissimo, conversatore, affascinante, un uomo piacevolissimo, anche un bell'uomo, sempre stato molto corteggiato, mi dicono quando è anche più giovane, poi anche in seguito. Un uomo che viveva, come lui stesso diceva, lui voleva vivere come un uomo tra gli uomini, voleva fare una vita normale, infatti la faceva questa vita normale, perché lavorava, sempre lavorato, prima quando era ragazzo in banca e poi dopo, quando ha potuto liberarsi dalla banca, ha esercitato come gli piaceva l'arte, l'antiquariato, ha avuto una bottega d'antiquariato molto conosciuta, credo a Torino, credo che torinesi, molti l'abbiano vista in via Lagrange, poi a un certo punto l'ha lasciata e si è dedicato alla pittura, quindi un uomo che ha sempre avuto un'attività di lavoro dedicata sopravvalentemente all'arte. Poi si dedicava tantissimo alle persone che avevano bisogno di lui, il suo numero era sull'elenco telefonico, tutti potevano telefonare, stava poi a lui a rispondere oppure no, a volte lui cambiava anche voce, si capiva che non era proprio una necessità, diceva, e poi cambiava voce, diceva, il dottor Roll è via, non tornerà tra 15 giorni, però si capiva che le persone, io lo sapeva, si capiva che le persone avevano bisogno, era tutto lì, era tutto a disposizione di tutti. Posso parlare anche per esperienza diretta, nel senso che una mia amica di Modena dove vivo, sapendo che conoscevo Roll e che aveva dei problemi di depressione fortissimi, mi chiese se potevo procurargli un appuntamento. Io ricordo che lo chiamai, lui mi rispose subito, dice, ciao Paola, ecco sei tu, prima già che le avevo telefonato, gli spiegai la cosa, lui mi disse, non c'è bisogno che lei venga qua, dille di telefonarmi in tal giorno o in tale ora. Io non so che cosa si siano detti, però nel giro di due o tre telefonate la liberò da tutti i suoi problemi che si portava dietro da un sacco di tempo, ha recuperato la salute. E poi aveva queste serate, quindi durante la giornata aveva una vita di questo tipo, aiutava le persone, andava molto negli ospedali a trovarle, visitava gli ammalati, però poi si divertiva anche perché amava andare al ristorante, aveva tanti amici nella buona alta società di Torino, tanti amici, medici, giornalisti, scrittori, tanti medici ancora io li ho conosciuti che l'hanno frequentato e quindi con questi andava a visitare i musei, andava nei negozi, andava a comprare, aveva tanti amici anche tra le persone semplici, i titolari di negozi, i ristoratori, andava a ristoranti spesso molto volentieri con amici eccetera. E poi la sera, alcune sere alla settimana, lui si trovava in casa sua o in casa di amici, io sono stata sia, l'ho incontrato sia in casa di amici, in particolare di Remo Lugli, giornalista della stampa che lo fece conoscere, sia a casa di Rol. E lì lui faceva queste straordinarie serate che erano veramente indimenticabili. Evidentemente aveva dentro di sé questa sorta di meraviglioso che urgeva di manifestarsi, lui aveva bisogno di far vedere, di manifestare a un gruppo armonioso di persone. Se il gruppo non era armonioso, lui non partiva neanche. Io ricordo ogni volta che sono partecipato a una sua serata, le serate cominciavano sempre con un momento in salotto dove si chiacchierava, dove veniva offerto qualche dolce, però diceva di sé stesso di essere molto goloso. E questo è vero, l'ho notato che lui amava molto mangiare dolci, ciggiolati, gli piacevano molto. Si beveva un bicchiere di spumante, si chiacchierava piacevolmente, lui vi dava la condensazione perché era un condensatore affascinante, molto brillante, molto estervescente, allegro, piacevolissimo. E poi quando sentiva che l'atmosfera era quella giusta, che tutti erano in buona armonia, diceva allora andiamo, andiamo al tavolo. E c'era sempre un tavolo pronto con il tappeto verde sopra, le carte, che erano un elemento indispensabile di qualunque fenomeno lui volesse fare, c'era sempre, quasi sempre un ruolo per le carte. Ecco, due o tre sere a settimana c'erano questi pochi di attività straordinari. E lui però non attribuì mai a sé stesso, lui attribuiva sempre tutto quello che produceva a una dimensione superiore, della quale lui era il tramite. Io ho pubblicato nel mio libro anche una sorta di testamento spirituale che lui nell'anno 70 scrisse con la scrittura automatica ispirato dal suo stesso spirito intelligente, cioè dall'anima che era dentro di lui. E in questo documento lui rimprovera le persone che abitualmente, perché lui aveva dei gruppi che lo seguivano per anni, che abitualmente partecipavano alle sue sedute, dicendo non avete imparato niente, avete solo guardato quello che vi ho fatto vedere. Ho riempito le vostre serate, ho fatto calare la vostra noia, ho riempito la vostra noia. E non vi siete mai chiesti da dove vengano tutte queste cose che io produco. Ecco, da questo rimprovero, un rimprovero che diede quella sera a questo gruppo di amici, che lo seguivano di anni che forse non avevano ancora capito con chi avevano a che fare, ed è un rimprovero, un invito, una sollecitazione che io sento molto presente e calcante, esatta anche adesso per tutti quelli che si interessano di lui, perché io vedo, ci sono tanti libri su Roll, la maggioranza si occupa in particolare dei fenomeni, è giusto parlare dei fenomeni, perché sono straordinari, però è giusto anche ricordare il monito di Roll, cioè ricordatevi a dove vengono queste cose. Lui diceva sempre, paragonava se stesso a una grondaia, diceva, sono come la grondaia che convoglia l'acqua che viene dal cielo, che cade dal cielo, dice, ma non è la grondaia che bisogna esaminare, è l'acqua. E quindi lui diceva sempre, non dovete pensare a me, pensate da dove viene questa energia. Lui certamente era una persona particolare, dotatissima fin dall'infanzia, fin da bambino, abbiamo potuto riportare qua nel mio libro certe testimonianze, fin da bambino, dopo caso mai se abbiamo tempo lo leggo, una scritta sul libro di Pinocchio che lui leggeva a 10-11 anni, dove ha un quadro perfetto con la sua calligrafia da bambino di se stesso e delle sue capacità e delle sue doti, proprio in maniera visionaria, fin da piccolo. Ed era veramente un personaggio straordinario, lui sapeva di esserlo, poi ci fu quella famosa crisi di cui parleremo, la tremenda legge, scoperta la tremenda legge, e quindi lui sapeva di avere queste cose. Però voleva anche essere un uomo come tutti gli altri, ne voleva essere un fenomeno. Infatti non mandò mai in televisione, non partecipò mai a conveni, non andò mai a fare conferenze, non partecipò a esperimenti di laboratorio perché diceva che era assolutamente impossibile, perché lui aveva bisogno di quell'armonia di cui ho parlato prima. In un laboratorio, a un orario preciso, lui non poteva fare niente, non si sentiva al suo agio. Ecco, era un uomo molto particolare, di confronto agli iniziati di altri tempi una persona tutta diversa, però con dentro probabilmente le stesse istanze, le stesse responsabilità, lo stesso rigore, lo stesso legame con la dimensione superiore che avevano anche loro. Ognuno a modo suo, lui era quello per il nostro tempo. Lo stiamo capendo adesso, a quasi trent'anni di distanza dalla morte. Vedremo anche come gli è sicuramente sopravvissuto il messaggio spirituale e come anche questo ovviamente attragga tantissime persone. Prima però di approfondire le tematiche come la teoria dello spirito intelligente, la tremenda legge, vorrei andare da Davide, poi passo a Emanuele, perché giustamente Paola sottolineava il fatto che Roll avesse, volesse e avesse continuato a vivere come un uomo tra gli uomini e che in qualche modo fosse vicino a tutti, indipendentemente dalla condizione delle persone, dal proprio ceto sociale e tutto il resto. E questa era una delle caratteristiche che tantissimi ricordano, così come in tanti ricordano ed è testimoniato da anche tutte le lettere di ringraziamento, quello che lui faceva per, come dicevo prima, alleviare anche le pene fisiche dei malati o di tutte quelle persone che soffrivano, come per esempio prima l'aneddoto di Paola riguardo alla sua amica che soffriva di depressione. Davide? Ma sì, assolutamente, lo dicevamo prima di iniziare questa live, di come io essendo un appassionato, essendomi avvicinato alla figura di Roll da ragazzino, ho potuto vedere come è diverso dagli altri figure di iniziati che possiamo trovare nella storia come un Yogananda. Gli altri figure spesso in Oriente hanno questo alone di quasi dei superuomini, capaci, che hanno dei segnali sin da bambini del loro destino o che hanno la possibilità di ritirarsi nelle grotte, meditare per ore e ore. Ecco, noi non sappiamo Roll come abbia raggiunto questo stato di illuminato, probabilmente ci sono delle somiglianze, però la cosa molto interessante per una persona qualunque, come posso essere io, è che c'è questa possibilità quasi di averlo vicino. Questo, come diceva Paola, è l'essere un uomo tra gli uomini. Quindi non è questa figura quasi che ti incute timore di un semidio, ma di una persona con tutte le sue problematiche, tutte le sue peculiarità da essere umano. Una cosa molto simpatica è che appunto lui pur essendo, pur avendo raggiunto queste dimensioni straordinarie dell'essere umano, poi magari quasi in stile gossip, il matrimonio andava bene, ma aveva i suoi problemi, piuttosto che come una persona qualunque, fino a quando il padre era vivo, era costretto a lavorare o si costringeva a lavorare nelle banche, come ricordava Paolo. Mentre invece una volta morto il padre si sente libero di dare il libero sfogo alla sua passione per l'arte, per l'antiguariato. Ecco, tutti questi elementi, o come ricordavi te Enrica, il fatto che si dedicasse tantissimo al prossimo. Chi lo ha seguito spesso come autista negli ultimi decenni della sua vita, riporta quante volte che andasse negli ospedali ad aiutare, a dare una mano, o anche per strada. Quindi c'è davvero questa figura quasi di un fratello maggiore, mi viene da dire, di averlo molto vicino, piuttosto che le altre figure di iniziati che possono incutere timore con delle capacità o delle particolari storie di vita. E anche in qualche modo allontanare quando si crea la figura del guru, mentre invece lui faceva esattamente il contrario. Emanuele invece... Scusa se ti interrompo per un attimo. Lui diceva, io sono pigro, goloso e birichino. Leggeva di se stesso. Allora, pigro, io non credo perché... non ci credo tanto, perché ha sempre lavorato, è sempre stato molto attivo. Goloso sì, goloso sì, perché l'ho visto mangiare i dolci con molto piacere. E birichino riguarda lui, questo era un suo riferimento ai suoi rapporti con le donne, una cosa sua. Anche in questo un uomo come tutti gli altri. Certo. Allora, invece per quanto riguarda, diciamo, tutta una serie anche di aneddoti sulla sua figura, verrei a te Emanuele, perché al di là dei fenomeni di tutte anche queste serate dove intratteneva anche personaggi, insomma, importanti del jet set del periodo, ci sono tutta una serie appunto di aneddoti come per esempio delle vere e proprie forme di precognizioni, addirittura di predizione che Roll faceva. Tu Emanuele, tra l'altro ne hai parlato in un tuo libro, L'atto magico, vorrei sentire proprio da te qualche aneddoto su questo, che ci possa anche aiutare a capire quali erano le capacità di Roll a 360 gradi, perché molto spesso le persone che non lo conoscono bene tendono a derubricare il tutto, ha delle capacità quasi più da illusionista, mentalista o altro, mentre invece non era quello come non era un sensitivo, un mago, ma era, come voi continuate a sottolineare, un iniziato, un illuminato, quindi una persona che a 360 gradi facendo da grondaia, da medium per il mondo dello spirito, riusciva a veramente sconvolgere le persone che aveva di fronte, proprio perché riusciva ad aprirsi come un portale con l'altro mondo. Ma infatti, guarda, dovremmo parlare dello scetticismo drammatico dei preclusi alle meraviglie del mondo spirituale, cosa che Roll ha cercato in tutto il corso della sua vita, in qualche modo di disarmare questa difesa razionale e positivista, che in qualche modo viene principalmente indotta dalla società in cui viviamo. Un aspetto molto interessante da questo punto di vista è quello che accadde nel 1949 a Cap d'Antibes, in questo hotel meraviglioso frequentato da politici, da star di Hollywood, da principi, dove Roll fu ospite in una vacanza che definì la giornalista Laura Bergagna quasi un viaggio nel Paese delle Meraviglie, in Wonderland, perché praticamente si trovò fianco a fianco con Gustavo Roll serate e giornate straordinarie passate insieme stupendo gli astanti e gli ospiti di quell'albergo. Diciamo che un aspetto che va sottolineato è che Gustavo Roll, per rompere questa barriera, cominciava ogni serata, delle sue serate, con questi giochi di carta che lui definiva delle aste, una sorta di entratura per capire poi come poter spingersi oltre, anche perché in alcuni momenti della sua vita quella spinta potente, anche giovanilista in qualche modo, l'aveva portato a traumatizzare alcuni degli astanti e quindi poi a moderarsi maggiormente, a fare considerazioni anche in base a quella che poteva essere la levatura spirituale della persona che aveva davanti, per non mettere in una situazione di disagio totale, perché quello che poteva fare Gustavo Roll, chi è interessato può vedere un sito creato proprio da Franco Roll, che parla delle famose 49 facoltà, che non sono dei poteri, sono delle facoltà, un termine molto differente, ma che vanno a compiere quello che è il totale raggiungimento del potenziale umano compiuto da un illuminato, perché quando parliamo di Gustavo Roll, come hai sottolineato tu, Paola, come sa anche Davide, tutti i veri studiosi di Gustavo Roll, stiamo parlando di un illuminato, cioè di quella figura umana che in questo viaggio terreno scende a raggiungere la sua illuminazione, il punto più alto dell'evoluzione umana, diventa una guida per tutti gli altri. Una guida che non è detto che debba mostrarsi, perché molto spesso i maestri spirituali si rivelano a chi li cerca e non è che sponsorizzano. Nella sponsorizzazione spesso si entra poi nella ciarlataneria, ecco, e questo è tutto ciò che è distante da Gustavo Roll, come anche le figure che non è che vanno sminuiti i termini mago, medio, ma assolutamente, ma bisogna fare una differenziazione. Cioè il mago, se lo vediamo nel mondo antico, è l'unione tra il cielo e la terra, il magus, cioè la persona più potente sulla terra che può unirsi in qualche modo al divino. Ma l'accezione che noi abbiamo dato nella contemporaneità e nella modernità ovviamente è svilente, erroneamente svilente da certi punti di vista. Lo stesso vale per medium, perché le facoltà medianiche sono comunque un approccio, un primo passo personale, naturale o in qualche modo che può essere anche sviluppato e accelerato come facoltà psichiche, ma Gustavo Roll era molto molto altro. Per tornare al 1949, io voglio parlare di questi accadimenti perché in quel momento un Roll poco più che quarantenne nel massimo del suo potenziale, della sua maturità di non più giovane uomini ma di adulto, non era ancora conosciuto a grande pubblico, attenzione, ma era già una leggenda. Si vociferava, si parlava delle grandiosi dote, delle grandiosi facoltà di Gustavo Roll e di quello che lui faceva per gli altri. Quindi il suo nome era già conosciutissimo, ma non era mai uscito sulla stampa. Che cosa accadde in quel tragico giorno, in quelle tragiche notti che accompagnarono proprio il giorno dell'incidente che coinvolse il Conte Cini nell'aeroporto privato, la bocca vicino a Cap d'Antico. Praticamente Gustavo Roll intratteneva i suoi ospiti insieme a questa giovane giornalista della stampa, allora credo 23 o 24enne, Laura Bergagna, che partì in vacanza con Gustavo Roll perché lei era solita andare d'estate in vacanza all'estero per migliorare le lingue straniche. Avendo conosciuto Roll poche settimane prima, in una circostanza anche molto divertente, nella quale lei è scesa da un codiano alla stampa per fare il solito operativo, viene chiamata per conoscere Gustavo Roll, e lei sperava di conoscerlo da molto tempo, e sedendosi con Roll a quel tavolo con tutti gli amici, rimase subito estasiata nonostante andò con la volontà di non voler farsi prendere in giro, quindi con quello scetticismo naturale che abbiamo tutti di fronte a persone che millantano, che in realtà hanno delle facoltà straordinarie. E quindi lei si trovò a fumare una sigaretta, Roll gli disse, preso da quegli impulsi di cui parlava Paola, a dirle, ferma, ferma, scrivi il tuo nome, scrivi il tuo nome, non serve una penna, fallo con le dita. Lei poi aprì tutto il pacchetto di sigarette sull'indicazione di Roll e trovò la sigla di come si firmava sulla stampa, perché inizialmente un giornalista non poteva firmare con nome e cognome, ma se tanto con le iniziali, e da lì iniziò questo viaggio per lei nel Paese delle Meraviglie. Convinsi i genitori ad andare in Francia per imparare il francese, sapendo che Roll andava in vacanza a Cannes, da Cannes si spostò insieme a Roll a Cap d'Antibes, perché il padre della giornalista era molto amico del commentatore Sella, che era il proprietario di questo straordinario albergo che ha tenuto per molti anni e decenni la famiglia Sella in proprietà. E qui arrivarono anche il conte Cimi e l'attrice hollywoodiana, che si chiamava Merle Oberon, che era inglese, da parte di padre e di madre. Lei voleva dire che la madre fosse francese, un po' per questione di territorietà, i rapporti dell'epoca, ma in realtà la madre era inglese e cingalese, e lei nacque in India, una attrice che sa sempre che era nata in Inghilterra. Questa attrice, che era un'attrice molto interessante, ma che stava vivendo un momento quasi di declino, che veniva da due matrimoni, di cui l'ultimo con un operatore molto noto ad Hollywood, che ebbe un incidente grave che rimase praticamente per molto tempo sulle stampelle, aveva fatto in modo che questo amore travolgente nato con il conte Cimi vivesse comunque le attenzioni fastidiosi non solo del mondo, ma proprio della famiglia di Cimi, perché Cimi, stiamo parlando di uno dei nobili più ricchi, nonché industriali italiani, cioè era l'unico erede, aveva tre sorelle, ma avrebbe portato avanti un impero clamoroso del padre, tant'è vero che la sua salma, addirittura lo stesso Agnelli, si era messo a disposizione col suo ero privato per riportarla poi in Italia. Durante quelle serate, per farla breve, iniziarono Roll e altri astanti degli ospiti, diciamo ritemuti degli amici speciali della famiglia Sella, potrebbero partecipare ad alcune sedute che erroneamente nel primo articolo che uscivano definite sedute spiritiche o spiritiste, insomma, termini sbagliate, perché in realtà poi vennero corrette negli articoli successivi in sedute trascendentali, o che oggi potremmo definire in qualche modo spirituali, che quello che faceva Roll non aveva nulla veramente a che fare con la medianicità in quanto spiritismo. Questo deve essere molto chiaro, perché è facilissimo cadere in questi tranelli, ma si parla proprio di un'altra tipologia di lavoro. Che cosa accadde? Ci sono varie testimonianze che vengono fatte attraverso quella sera, cioè quella dei presenti, ovviamente che viene raccontata in maniera diversa, perché ovviamente Gustavo Roll durante il giorno poi parlava con ognuno di loro, ma tutti riportano esattamente quanto sei, e cioè che Roll avvertì dentro di te una sensazione di bruciato, e attenzione anche a questo termine, perché quando parliamo di illuminato parliamo di sensazione, che non è quindi un rapporto visivo, cioè ho avuto una visione, o piuttosto ho avvertito un odore, quindi olfattivo, ma parliamo di una sensazione che quindi coinvolge la totalità dei sensi, e qui si rientra in quel discorso di sviluppo dei sensi interiori, che molte tradizioni iniziatiche in qualche modo offrono alla visione dell'adetto per il suo percorso di iniziazione. Quando lui ha questa sensazione cerca in tutti i modi di approfondire, quindi vuole conoscere vuole conoscere meglio quella coppia, in realtà Roll già conosce Cimi, tant'è vero che quando lo abbraccia e lo saluta Cimi era un uomo atletico, sorridente, un uomo potente che aveva tutta la vita davanti, infatti la Oberon, dice lui, non poteva, non doveva e non voleva morire, però questo accade. Ma quando si torna a quello scetticismo drammatico, quando parlo, no, di chi purtroppo infronta lo spirituale rituale a una sorta di negazione, lo ha portato un po' come come potremmo dire come avvenne per Cesare, come avvenne nella leggenda di Cassandra e nella caduta di Troia, a non dare retta a qualcosa che viene da più in alto, che ti dà un'informazione, tu non la ricevi e in qualche modo sei costretta a pagare il tuo destino, in quel caso Carmi. Roll sente questa forte sensazione di bruciato, chiede quindi che cosa state facendo, dove andateci, mi racconta che deve tornare a Venezia per una riunione aziendale, forse un consiglio di amministrazione, ma forse non era neanche una cosa così importante a quanto poi dice il commendatore Sella. Fatto sta che anche la Oberon che in quelle sedute scopre per la prima volta di avere un potenziale lei medianico, perché Roll, che tra le facoltà che aveva c'era quello di proiettare in altri per un tempo determinato le sue facoltà, riesce a avere una visione dove vede l'incidente aereo del Conte Cimi. Quindi immaginate per questa donna questa sensazione di dolore, di terrore e in più l'iniziare a percepire delle dote medianiche. Ovviamente se ne parlano, per un giorno il Conte Cimi decide di rinviare questo volo di un giorno perché poi litica con la Oberon, fanno pace, rimangono una notte in più. Ma nonostante questo, nonostante questo, a un certo punto decide di partire. Il Conte Cimi non sarebbe dovuto partire da solo, sarebbe dovuto partire anche con il commendatore Sella, il padrone dell'albergo di Cap d'Antibes, e la stessa Merle Oberon. Lei però, spaventata in qualche modo dall'ammonimento di Roll, come fa lo stesso Sella che poi dopo anni dichiarerà Roll mi prese la mattina per il braccio e con forza mi disse tu non vai da nessuna parte e Sella non prese neanche più trene, automobili, aerei per un lungo periodo. Quando il Conte Cimi partì e partì insieme a Giorgio Girardello che era comunque un pilota addirittura a medaglia d'argento al valore nella guerra, un 36enne nelle sue piene facoltà, partì davanti proprio a Merle Oberon il Conte Cimi e altri amici da questo piccolo aeroporto privato con un Cessna ricoperto in lì. Vole fare subito dopo il decollo un ulteriore saluto alla compagna e quindi una manovra che alcuni hanno considerato azzardata per altri esperti in realtà no anche se lì fare che in quella zona ci siano dei vuoti d'aria. Questo spinse l'aereo praticamente a precipitare ed esplodere e quindi la morte tragica sia del pilota che del Conte Cimi potete immaginare che l'impatto devastante sia sulla vita dell'attrice hollivodiana ormai a carriera declinata con qualche problema finanziario che aveva perso l'uomo della sua vita ma c'è un aspetto ancora più interessante al di là della predizione che fa Gustavo Roll quella sera accadono delle cose tant'è vero che Roll si fa la predizione ma è la Oberon che attiva le sue facoltà mediane tant'è vero che lei dice a Roll agli astanti io so che morirò da sola e non prima della predizione di Roll e non avrò un futuro con quest'uomo un'altra testimone sente un fastidio qualcosa di veramente pesante di tragico in quella coppia perché in qualche modo quando si attivano queste percezioni è possibile che queste si dilatano in base alla capacità di percezione sensoriale della persona che è presente e questo per raccontare un episodio fondamentale che dopo di che dopo questo Roll di cui si parlerà per tutti i quotidiani italiani per i settimanali per tutto il mese di settembre e avanti ancora da quel momento l'attenzione su Roll si focalizza ed è lì che entrano i famosi scettici to cure ok certo facciamo invece un passo indietro perché in questo periodo siamo appunto nel 49 torniamo indietro invece di 22 anni perché nel 27 Carroll scrive descrive anzi la tremenda legge che aveva scoperto attraverso i suoi studi attraverso i suoi talenti i suoi numerosi esperimenti psichici con le seguenti parole ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde la quinta musicale e il calore ho perduto la gioia di vivere la potenza mi fa paura non scriverò più nulla Paola che cosa c'è dietro a queste insomma parole così tragiche e vibranti ma ci sono tante cose c'è fondamentalmente la presa di coscienza da parte di Roll in maniera violenta di suoi poteri lui da tempo cioè da quando era anche più giovane comunque aveva 24 anni quando venne questo fatto era giovanissimo comunque era da tempo soprattutto da quando viveva all'estero per il lavoro in banca a Marsiglia il primo periodo che faceva esperimenti con le carte evidentemente sentiva di dover mettere a fuoco le sue capacità faceva esperimenti con le carte per cercare di indovinarle quando lui parla di calore era il calore che lo guidava a conoscere il seme delle carte quale seme era il numero della carta e così via poi aveva conosciuto anche su questo regna un certo mistero a Marsiglia sempre aveva conosciuto questo polacco aveva questo polacco un personaggio misterioso evidentemente dotato di grandi poteri erano nella stessa pensione si erano conosciuti lì il polacco era un uomo solo non si sa che cosa facesse comunque aveva preso a benvolere questo ragazzo che era solo lui non andò volentieri all'estero non andò volentieri a lavorare in banca quindi lo preso un po' sotto le sue ali intuì capì che lui aveva certe doti e gli insegnò delle cose Rol ne ha parlato con Pitti Grilli con lo scrittore Pitti Grilli che è stato il primo che ha pubblicato delle cose su Rol all'inizio degli anni 50 quindi dopo l'episodio di cui ha parlato Emanuele e quindi mette a fuoco un po' le sue doti e con tutti questi sperimenti con le carte alle quali lui dedicava ore e ore la sera dopo il lavoro probabilmente questa concentrazione che può essere in qualche modo paragonabile alle meditazioni di cui si parlava prima degli indiani hanno scatenato in lui la rivelazione delle sue doti c'è chi ha parlato Franco Rol per esempio sono assolutamente d'accordo su questo e del risveglio della Kundalini cioè di questa misteriosa energia che tutti possediamo Kundalini significa serpente una energia del serpente che tutti possederemmo e che sarebbe come addormentata alla radice della colonia vertebrale che risvegliata con un certo tipo di esercizi gli indiani sono maestri in questo si ridesta sale attraverso la colonia vertebrale risvegliando e facendo aprire tutti i chakra fino al chakra più in alto ecco lui probabilmente ha visto un'esperienza di questo genere improvvisa in attesa probabilmente non voluta tant'è vero che chiese una licenza non riuscendo a venire a capo di questa situazione che gli ha creato certamente anche a livello fisico dei grandi trambussi dei grandi problemi chiese tre mesi di licenza alla banca e si ritirò in una casa di esercizi spirituali vicino a Torino che lui conosceva perché andava lì quando era ragazzino per prepararsi i sacramenti e si chiuse lì cercando questo padre Reghini che aveva conosciuto sperando che gli spiegassero che cosa era successo che cosa gli era successo teniamo presente che questo chiudersi per tre mesi in una casa di esercizi spirituali avviene in un momento per lui particolarissimo io ho fatto un po' di conti lui da poco si era trasferito a Parigi nel frattempo aveva conosciuto in un bistrò in un caffè quella che poi diventò sua moglie quindi era stato un grande amore che era nato quindi da poco tempo aveva conosciuto questa ragazza quindi se lui scappa scappa da Parigi torna a Torino si chiude in convento per tre mesi deve essere successo veramente qualche cosa di grande in questo monastero in questa casa di esercizi rimase tre mesi lo portò fuori la madre con la quale lui si era confidato e gli disse bene tu hai questi poteri adesso usali per il bene del tuo prossimo lui questo ha fatto per tutta la vita lui dice anche in questo messaggio che ha scritto nel suo diario ha scoperto questa tremenda legge che lega il colore verde la quinta musicale e il calore del calore abbiamo detto cioè lui col calore delle mani ha sempre detto di percepire che cosa era la carta sulla quale si stava concentrando e questo è un mistero anche tutto questo suo modo di visualizzare il colore verde lui ne ha parlato perché il colore verde perché il colore verde che lui vide una volta in un grandissimo arcobaleno particolarmente ampio luminoso si rese conto che il verde è il colore centrale quello che tiene uniti gli altri colori e lui parla sempre del verde per esempio a pittigrilli disse cercò di insegnare delle cose a pittigrilli ma non funzionò più di tanto a pittigrilli disse che quando deve avvenire il fenomeno tu devi visualizzare una parete verde senza neanche un pallino di un altro colore verde intenso e nel momento in cui tu riesci a visualizzare questo il fenomeno avviene e poi la quinta musicale la quinta musicale è un suono particolare per esempio do sol lui amava molto la musica e per lui anche questo suono della quinta musicale aveva qualche cosa certamente cose che hanno funzionato solo con lui non funzionano con altri lui visualizzava il verde visualizzava sentiva la quinta musicale avvertiva il calore probabilmente e si rifaceva anche al 5 c'è anche il 5 che rientra in questa trilogia che è diventato un 4 a questo punto sono diventati 4 elementi il 5 anche il 5 come il verde è un numero centrale tra l'1 e il 9 il 5 e mi dicono per esempio che i primi anni quando avveniva il fenomeno la lettura il libro chiuso la pittura diretta queste cose qua lui gridava in francese je suis le numéro 5 e nel momento che faceva questo grido il fenomeno avveniva quindi lui aveva questi punti di riferimento questi simboli io li posso chiamare così che valevano naturalmente soltanto per lui e che gli sono serviti e che ha cercato di spiegare quello che è certo che ebbe questa come posso chiamarla questa rivelazione traumatica io ho paragonato nel mio libro quello che Roll ha detto di se stesso perché poi negli anni ne ha parlato con varie persone dicendo che è stata una cosa veramente terribile durissima eccetera ho paragonato queste sue parole e questa sua situazione con quello che gli indiani per esempio i Krishna molto apprezzato hanno detto del risveglio della Kundalini per loro arrivato dopo lunghi esercizi di meditazione ore e ore eccetera eccetera e anche ricercato in un certo senso nel caso di Roll non credo ricercato non credo però gli effetti sono più o meno gli stessi quindi probabilmente si è trattato di questo proprio di un risveglio quindi l'illuminazione che l'ha portato ad essere poi quello che è stato però per accettarsi ci è voluto tanto tempo questo avvenne quando lui aveva 24 anni e lui si è accettato veramente ho potuto accertare grazie ai documenti che ho trovato in archivio a Torino grazie a tante letture che ho fatto incontri eccetera eccetera avvenne dopo i 40 anni l'accettazione piena di se stesso probabilmente anche grazie al bene che lui riesce a fare con i suoi poteri durante la guerra lui ancora durante la guerra abbiamo dei testi che ne parlano chiaramente lettere che ha scritto ancora si interrogava su se stesso si chiedeva aveva dei momenti di depressione perché non riusciva a inquadrare se stesso bene durante la guerra abbiamo un diario del capitano degli Appini dove lui parla di queste cose un altro libro che è stato pubblicato dove lui scrive lettere a una poetessa e si confida moltissimo con lei pubblicato dopo la sua morte naturalmente perché prima non si poteva pubblicare niente si confida tanto con lei e parla delle sue crisi delle sue dubbi delle sue depressioni eccetera eccetera poi durante la guerra succede questo che lui è sfollato con la sua famiglia a San Secondo di Pinerolo dove la famiglia Rola aveva questa bella residenza estiva in questa residenza sono acquartierati anche i tedeschi il comando tedesco e lui stabilisce con i tedeschi un buon rapporto cioè fa vedere a loro tutti i fenomeni che lui sapeva fare e li conquista in questa maniera in questo modo salva anche tante persone tanti partigiani che venivano o contadini del giorno che venivano presi perché in possesso di un fucile da caccia di una cosa così lui racconta tutto questo nel suo diario quindi si può andare a vedere tutto io ho riferito anche nel mio libro le cose essenziali e quando loro prendevano qualcuno lo volevano mettere al muro i tedeschi lui diceva ma che fa di questo è una persona innocente chiedevano a lui ma come fare a sapere che è una persona innocente lui diceva lo so come so che cosa c'è nel cassetto della sua scrivania ad Hamburgo e gli diceva c'è una lettera c'è questo c'è quell'altro piano piano loro acquisirono una fiducia i tedeschi acquisirono una fiducia e lui si fidavano di lui tant'è vero che lui sempre in questo diario del capitale degli Alpini si trovano delle espressioni molto discrete perché lui non si vantò mai ma diceva solo io so quanto ho lavorato o solo io so quello che ho dovuto fare quella notte per strappargli quella persona dalla morte allora io mi sono fatta l'idea che questi riconoscimenti che lui ha avuto pensate che alla fine della guerra il sindaco di San Secondo di Pinerolo ha rilasciato un documento ufficiale che io ho riprodotto nel mio libro dove ringrazia Raul per il grande coraggio che ha avuto perché non era una posizione facile la sua intermediario con il comando tedesco volendo salvare le persone ricorrendo a volte anche a dei diciamo degli escamotage molto particolari che ho narrato che sarebbe anche un po' lungo da dire quindi questa posizione difficile viene ringraziata ufficialmente per aver salvato tante persone io mi sono fatta l'idea che lui da allora io avevo 40 anni lui era del 3 quindi alla fine della guerra era 42 anni acquisito piena fiducia in sé e ha cominciato veramente a fare uso di queste sue doti apertamente per aiutare per aiutare la gente e certamente lo faceva già da tempo quando avvenne il famoso episodio del conte Cini che abbiamo narrato e l'opinione pubblica era anche pronta diciamo si sapeva che lui era un personaggio particolare però allora cominciarono a parlarne a tutti i giornali e quindi poi ci sono gli scritti di Pitti Grilli ed è cominciata così la grande chiamiamola carriera non è una carriera ma insomma l'iter l'iter di Roi che poi se ci pensate dalla guerra gli anni della guerra fino a quando lui è mancato sono stati 50 anni di attività di questa vita particolare che gli ha condotto aiutando le persone andando in archivio e avendo accesso ai suoi diari giovanili alle sue lettere 2000 lettere sono state depositate in archivio scritte da Role e moltissime ricevute da Role ci sono centinaia di lettere di persone che lo ringraziano sia per gli aiuti concreti che lui ha dato faceva anche tanta beneficenza era molto generoso però diagnosticava le malattie inviava dai medici giusti dava i consigli riusciva solo persone che avevano dei lutti riusciva a fargli vedere i loro cari a fargli sentire i loro cari a fargli vedere le scritture fatte dai loro cari quindi c'è una casistica incredibile ma soprattutto lettere la maggioranza di quelle che ho potuto leggere lettere di persone che ringraziano Role per l'aiuto spirituale che hanno ricevuto cioè perché lui è stato capace di indicare a loro la strada giusta di toglierli da una vita magari un po' aburica una vita senza perché senza forse grandi problemi senza rivolgersi al divino ecco questi sono i ringraziamenti che mi hanno commosso le mie persone che non gli chiedono niente ma gli dicono grazie grazie a lei ho ritrovato il senso della mia vita ho ritrovato il modo di vivere in una maniera diversa di avere dei valori diversi di rivolgermi verso un altro ecco questo ha fatto poi per tutta la vita queste straordinarie serate alle quali qualche volta ho potuto partecipare aiuto durante il giorno alle persone anche qui raccontavi tu stesso Davide che fermava le persone per la strada dicendo guardi che lei si faccia questo esame perché ha un problema eccetera andava negli ospedali lavorava perché aveva la sua attività di antiquario aveva la pittura eccetera molto caro con gli amici che gli amici hanno dei ricordi di lui incredibili ho trovato in archivio lettere di Fellini lettere di Minorotta di Angelo Dragone di Zeffirelli di tutta la Fiat lettere di Umberto Agnelli di Cesare Romiti insomma frequentazioni straordinarie stimatissimo sempre da tutti quindi una persona veramente secondo me di un'onestà damantina e di doti straordinari che mise sempre a disposizione di tutti Davide come hai potuto riassumere il messaggio spirituale di Roll? Domine non sono dignus si direbbe in questi casi non sono degno di riassumere il messaggio spirituale però in generale quello che arriva a me della figura di Roll è quella di come si diceva prima come diceva prima Paola sul testamento lui è un po' il dito che indica la luna se noi ci fermiamo al suo dito alle sue esperimenti ai dettagli della sua vita dello scetticismo altro perdiamo quello che è il messaggio vero che è questo 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 monito a cercare a seguire quello che è la ricerca di un qualcosa di altro rispetto alla materialità tra l'altro lui non è non è neanche semplice poter riassumere perché spesso si entra in contraddizione più uno approfondisce più trova degli elementi che che è difficile tenere insieme per esempio lui diceva la morte non esiste ricordatevi che ve l'ho detto ve l'ho indicato la morte non esiste c'è subito un'altra vita ma allo stesso tempo in un'altra occasione dice ricordatevi che voi che noi tutti siamo come persone che camminano sull'orlo di un baratro e potremmo finirci dentro ad ogni istante quindi c'è in tante cose c'è questo doppio messaggio da una parte la speranza ma di un qualcosa che non è scontato che non arriverà solo per diritto di nascita in un certo senso a me viene sempre in mente la metafora della dinamo così come la dinamo è quel meccanismo sulla bicicletta che permette di generare una luce allo stesso modo l'essere umano se fa determinate cose se tiene un certo comportamento se si impegna in un certo in una certa direzione riuscirà a generare qualcosa da un meccanismo meccanico un qualcosa che perdurerà un qualcosa che avrà dei riscontri poi anche dopo la morte del corpo ecco questo è quello che mi che mi arriva da Roll dalla sua figura poi certo ci sarebbero da dire mille cose su mille esperimenti eventi di Roll è davvero affascinante se permetti se permetti volevo leggere ci metto un attimo un brano che ho trovato in archivio in uno dei diari giovanili scritti a mano di Roll lui aveva 28 anni è del è del 31 quindi lui era del 3 quindi aveva 28 anni e parla di sé parla di sé durante questi anni in cui ha già avuto la rivelazione però ancora è un mistero per se stesso però racconta così c'è una voce che parla in me che mi ha parlato sempre e mi dice tante cose tutto ciò che io voglio debbo e che anche non vorrei sapere è come la voce di un grande amico l'unico amico d'altronde che abbia mai avuto nella mia vita perché non ho mai avuto amici c'è sempre stata la vita a segregarmi dagli altri uomini forse io non comprendo la vita o sono gli uomini a non comprendere me io amo intensamente tutto ciò che è passato e tutto ciò che deve avvenire perché le cose del passato non cambiano più e quelle dell'avvenire non sono ancora corrotte così io sono tutto solo su questo ponte gettato fra le due età e mi sembra quasi di trovarmi di fronte all'universo forse questa sensazione la provano tutti gli uomini subito dopo la loro morte quando hanno cessato di appartenere al passato e divengono attori di una vita futura potrebbe darsi che sia questo il tanto temuto momento del cospetto di Dio pensate che riflessione in un ragazzo di 28 anni che evidentemente ha lui una cosa che mi ha colpito in questo messaggio è anche il fatto che dice io sono tutto solo e anche nel suo messaggio quello che ho citato prima scritto sul sul libro di Pinocchio dice io sono sarò un vecchio tutto solo in realtà chi ha conosciuto Roll non se l'immagina da solo perché era sempre circondato da moltissime persone ricercatissimo lui era anche molto un uomo di salotto dove stava molto bene nei salotti frequentavano le persone aveva sempre amici vicini andava al ristorante le cose grandi serate andava negli ospedali quindi da solo certamente no però io penso che dentro di sé fosse veramente un uomo solo perché è la sua unicità che lo rendeva tale quando sei così eccezionale come era lui e ancora a questo momento si chiedeva chi sono cosa devo fare come posso vedermela con questa situazione è un uomo che la solitudine la sente perché quando sei troppo diverso dagli altri alla fine la solitudine c'è ecco e questo credo che l'abbia accompagnato per tutta la vita Emanuele che cos'era lo spirito intelligente? Per parlare dello spirito intelligente bisogna capire questo questo passaggio che è stato eh chiesto prima e raccontato da Paola della tremenda legge il passaggio della tremenda legge non è un passaggio che avviene automaticamente ha un procedimento che dura almeno due anni da quando inizialmente Eroll si accorge di avere una sensazione vivida profonda e leggera rispetto al colore verde che gli dà uno slancio per proseguire nei suoi esperimenti esperimenti qui faccio una parentesi all'interno della parentesi che noi potremmo considerare in parte di origine orientale quelle vicine all'induismo in parte potremmo collegarli all'alchimia meditativa dei rosi cruciali allo stesso modo potremmo pensare che Eroll è un uomo che non nasce su un malcut per parlare della cabola ebraica come siamo quasi tutti noi ma è già su Yesod e nel suo percorso che potrebbe essere il percorso dell'auto iniziato cioè il famoso viaggio della carta del folle dei tarocchi riesce a vedere Keter la sfera più alta la sefirot irraggiungibile in questi due anni Eroll si rende conto che c'è un rapporto di relazione tra colore e suono che procura una vibrazione quella vibrazione che Paola ha giustamente connotato con il termine Kundalini quel risvedio lo spirito intelligente che viene in qualche modo chiamato da Eroll a sostegno dei suoi esperimenti o per manifestazione involontaria o per quell'impulso che lo portava alla comunicazione è quella traccia finale che resta della nostra vita e che si mantiene in attività intelligente e operativa nel massimo del suo potenziale terreno dopo la morte e resiste fino a quando è ricordato altrimenti è costretto come tutto a trasformarsi a mutare a dissolversi a diventare qualcos'altro ben diverso dall'anima e intelligente è questo termine affidato a Eroll perché riguarda l'umano che lui sottolineava che tutto è spirito anche la materia è spirito ma quello dell'uomo è uno spirito intelligente perfetto Davide tra l'altro torniamo sempre a San Secondo di Pinerolo perché prima Paola ne parlava riguardo proprio alla casa la dimora dei genitori della famiglia di Eroll ci sarà un'importante iniziativa per il centoventesimo anniversario della nascita di Eroll che ricordiamo Eroll era nato a Torino il 20 giugno del 1903 e ci sarà anche il premio Gustavo Eroll ce ne parli Davide? Sì c'è questo bellissimo premio che è stato messo in atto quest'anno e in pratica per opere d'arte o poesia per tutte queste espressioni pittura c'è questo premio Gustavo Eroll che appunto come dicevi col patrocinio del Comune di San Secondo di Pinerolo metterà in palio questi questi riconoscimenti la nostra la nostra amica la nostra amica Loredana è stata è dentro questo il comitato che ha promosso questa iniziativa questa bellissima iniziativa e quindi potremmo poi immagino dare ulteriori informazioni per chi fosse interessato o anche sul gruppo Gustavo Eroll sul gruppo Facebook Gustavo Eroll potrete benissimo trovare tutte le altre informazioni quindi per rimanere aggiornati rimandiamo la pagina al gruppo di Facebook o c'è anche un sito ok assolutamente sì ok poi trovate tutte le tutte le informazioni Emanuele invece c'è anche il museo dedicato a Eroll tra l'altro è anche un museo virtuale dove si può compiere un viaggio interattivo e c'è anche un sito assolutamente sì tutte queste iniziative eccezionali che hanno avuto diciamo una loro materializzazione negli ultimi anni sono dovute all'impegno di tutte quelle persone che non solo hanno conosciuto Eroll ma lo hanno amato e compreso che ne hanno capito l'importanza storica di questo personaggio che troppe volte nei nostri diciamo media mainstream è stato raccontato in maniera banale superficiale e denigratoria da persone che io considero guarda perdonami il termine ma sono dei deficienti spirituali profondamente ignoranti che fanno del loro scetticismo la barriera ai loro timori più profondi sono persone non pronte che avranno bisogno di ancora molte esperienze per riuscire a poter comprendere cosa si cela di meraviglioso dietro una figura come quella dell'illuminato Gustavo Roll di Torino quindi io veramente tra altre cose non sono ancora potuto andare al museo ma è la prima cosa che farò la prossima volta che andrò a Torino dove sono solito comunque andare a via Silvio Pellico e fermarmi al 31 per cercare di rievocare in me quale sarebbero potute essere le sensazioni di tutte le persone che barcavano quella sola perché si trattava di un barcare una sola era esattamente questo andare in quell'appartamento Paola invece tra l'altro tu Paola sarai proprio qua a Torino la prossima settimana sì c'è questa iniziativa per parlare di Roll io sarò confrontata con altri studiosi in particolare con l'ingegnere Antonio Manzalini che dal punto di vista della scienza si confronterà con la figura di Roll su come siano dal punto di vista scientifico spiegabili i fenomeni che lui produceva che veramente dal punto di vista umano non si sa come spiegare rifiacendomi a quello che diceva Emanuele prima io ho sempre notato che le persone più aggressive nei confronti di Roll critiche ipercritiche sono persone che non l'hanno mai conosciuto che non l'hanno mai incontrato perché io credo che chi ha avuto la fortuna di incontrarlo di assistere anche solo qualche volta alle sue serate ai suoi fenomeni e parlare con lui dubbi non ne può avere assolutamente sia anche per la modalità con cui tutto questo avveniva che era modalità io ho partecipato a sedute di medium di Roberto Secchi del centro Firenze di Pian Castelli di Dania di questi grandi medium del secolo scorso la fine del secolo scorso dei primi di questo secolo ma non è che uno sia meglio quello che uno sia peggio non era paragonabile a nessuno ecco non era paragonabile a nessuno tutto avveniva in piena luce con la massima semplicità in un attimo con una leggerezza una levità un senso di gioia che scaturiva da tutti i presenti di fronte a queste meraviglie che lui sapeva offrire con tanta con tanta benevolenza con tanta allegria ecco perché c'era sempre una bella atmosfera serena di come lui era felice quando avveniva il fenomeno lui videva era felice che dovevamo tutti insieme insomma era veramente una cosa straordinaria verlo operare con quella leggerezza e sempre con la collaborazione dei presenti insomma riuscire a guardare allora come adesso toccare il cuore lo spirito delle persone oltre che anche dal punto di vista umano anche dal punto di vista umano perché era un uomo che aveva sempre la parola gentile era molto caro ecco voglio dire molto ho avuto occasione di incontrarlo ho sempre avuto questo è stato un me gentilissimo passai anche una sera tutta da sola con lui facendo del giornalismo lui mi voleva raccontare delle cose e poi e quindi andammo per l'esattezza lui voleva che lo vendicassi di Piero Angela Piero Angela nominandolo da vivo era stato da Roll e da Roll gli aveva fatto vedere di tutto e di più poi Piero Angela si era espresso in termini molto dubitativi nei confronti di Roll nel suo libro cosa che Roll aveva offeso tantissimo e allora mi chiese sapendo che anche io scrivevo sui giornali mi chiese li avevo incontrato già varie volte prima mi telefonò e mi disse guarda Paola tu mi devi vendicare di Piero Angela e quindi quando vieni a Torino ci vediamo e ti rilascio un'intervista lui operava così adesso vi dico uno di questi episodi che ho vissuto con lui e infatti vado a Torino naturalmente non mi teci pregare andai a Torino lui mi portò a cena fuori con un'amica comune dopo mi disse a casa e Paola andiamo a casa mia che le devo parlare infatti andai a casa con lui facciamo dei tentativi di intervista nel senso che lui cominciò a raccontarmi io tirai fuori il registratore che pensavo di registrare però lui mi disse di metterlo via perché non disturbava direi fuori il broke notice lo disturbava anche quello disse tu ascolta semplicemente e quindi io mi misi ad ascoltare poi a un certo punto notai su una seggiolina una sfera grande così di cristallo antichissima mi attirò l'attenzione era su una poltroncina lì questa magnifica casa che doveva piena di oggetti immobili di stile impero e gli chiedi ma dottore che cos'è questa una sfera divinatoria che mi è stata portata da delle signorine di Torino una cosa di famiglia non sapevano a chi lasciare erano molto anziane l'hanno portata a me perché l'ha tutto visto e da questa mia osservazione presenti solo io e lui è nato un fenomeno straordinario c'è una lettura in libro chiuso per il quale lui mi disse vogliamo vedere a cosa serve questa questa ce l'ho dato a tre cani mi mette in mano i mazzi di carta mi li fa sollevare ci mettiamo d'accordo che la prima smazzata sarebbe il volume della tre cani che avrebbe detto la seconda smazzata la pagina la terza la riga la quarta il numero delle parole allora io lo riassumo molto velocemente io dico adesso vado a prendere la tre cani che era lì nella stanza vicina nella biblioteca no no aspetta aspetta forse lo troviamo anche prima prende la sua famosa matiglia di bambù si concentra un attimo e e scrive quattro parole a raccontare la vita allora io vado a quel punto adesso puoi andare vado a prendere il volume della tre cani a quella volume che 14 ricordo che era pagina adesso non la ricordo ma insomma ho scritto tutto 300 e qualcosa quarta riga quattro parole c'erano le parole che lui aveva scritto in effetti si si prestano molto bene a a dire che cosa serve una sfera divinatoria ricordo ancora con certe emozioni il sorriso di soddisfazione di di gioia si divertiva vedere il mio stupore quando in questa pagina della tre cani che ho trovato sollevando le carte troviamo quelle parole che lui aveva già scritto in anticipo e che si prestavano benissimo a definire che cosa può servire una sfera divinatoria e con lui le cose avvenivano così senza preparazione io capisco benissimo che lui non poteva andare in un laboratorio per una certa ora e esibirsi di fronte ai ricercatori magari filmato fotografato eccetera questo non lo poteva fare non era lui questo ricordo fantastico di questo uomo veramente diciamo che è stato in quell'occasione mi diede fra l'altro una sua fotografia che ho ritrovato poi rimesso nel libro con dietro una dedica alla signora Paola Gioventti con devozione questo mi ha fatto mi ha colpito moltissimo perché loro erano poco più che una ragazza erano molto giovane non avevo ancora fatto niente per lui mai scritto una parola eppure l'ho scritto mai fino adesso e gli auguri del mio cuore dopodiché io ho pensato che questa vendetta che lui mi chiese probabilmente l'ho fatta adesso scrivendo questo libro dove ho avuto modo di avere accesso ai suoi documenti dove penso di avergli reso ragione ecco di avergli reso giustizia su tante cose su tante critiche che sono state fatte quindi ho riprodotto questa fotografia con la dedica perché me l'ero dimenticata quando sono andata per scrivere il libro a recuperare in una cartella le cose di Roll ti ricordi che avevo di lui i documenti ho trovato e da loro la tengo davanti a me mi ha seguito per tutto il tempo che scrivevi il libro perché è una fotografia molto grande così sembra che ti segua con quello sguardo magnetico che avevo il sguardo azzurro magnetico indimenticabile ma direi che Roll è un'altra ripetutamente vendicato anche con serate come questa col tuo libro con tutti i film i documentari le conferenze cioè non ti stai preparando a Selma dell'Olio tra l'altro le riprese di l'enigma di Roll per la sua regia so che sono iniziate proprio le riprese a febbraio quindi sarà l'ennesimo tributo oltre che documento che potremmo avere proprio su di lui la biografia di Roll sulla base del mio libro perché la produzione ha acquisito i diritti per il mio libro quindi seguirà abbiamo fatto insieme anche le ricerche in archivio quindi sarà quella sì una bella vendetta credo assolutamente vedremo l'ora di poterlo vedere Emanuele ti do la parola siamo poi però in chiusura benissimo sì con una provocazione che l'ostracismo nei confronti di Gustavo Roll va inteso anche in quello che è il movimento della società nel corso di un secolo il precedente dell'attuale se non c'è bisogno di persone pensanti ma si preferiscono le persone già pensate per omologarsi figuratevi quanto possono essere fastidiose le persone risvegliate e con questo chiuso grazie queste generano proprio terrore anche perché possono contagiare le altre e portare davvero a una consapevolezza e a un risveglio spirituale di massa grazie grazie a tutti voi per essere stati qua nostri ospiti su Cosmo TV grazie a Paola grazie a te grazie a te grazie Davide vi ricordo allora innanzitutto la prossima settimana ci saranno queste due serate al CAB 41 con Paola Giovetti ci sarà poi questo centoventesimo anniversario a San Secondo di Pinerolo con il premio Gustavo Roll quindi per informazioni rimando poi al gruppo su Facebook qua in chat ci sono tutti i riferimenti spero di avervi presto di nuovo nostri ospiti anche perché abbiamo semplicemente toccato la punta dell'iceberg di tutto ciò che riguarda la vita i misteri e il messaggio spirituale di Rollo ci sarebbe davvero tantissimo da dire ancora vi ringrazio di essere stati qua con me ospiti e ringrazio tutti voi di averci seguito ci vediamo al prossimo appuntamento di Cosmo TV e grazie ancora di cuore buonanotte a tutti e grazie a tutti grazie a tutti